Ci troviamo davanti agli stabilimenti di Cinecittà, la fabbrica dei sogni, una volta, anzi speriamo che prosegua questa bellissima realtà che abbiamo in Italia, che ci invita in tutto il mondo. Però abbiamo riscontrato un grande problema, nessuno tutela la parte artistica di questo splendido edificio, di tutto quello che c'è all'interno. E lo vediamo nei cartelloni che troviamo sui muri di Cinta, proprio a 10 cm dal muro di Cinta di Cinecittà. Sono qualcosa di scandaloso. Chiaramente non vediamo mai un cartellone pubblicitario né al Colosseo, né al Panteo, né a Piazza Venezia. Non capiamo perché nessuno pensa a tutelare questo patrimonio artistico. Importantissimo. All'interno la proprietà sta trasformando, o tentando di trasformare, quello che sono alcuni spazi di Cinecittà. Abbiamo visto il progetto ed è in programmazione la realizzazione di un centro fitness molto importante, di un albergo, addirittura si parlava anche di una moschea. Insomma, praticamente grandi, grandi cambiamenti all'interno. Noi chiediamo alla proprietà di essere un pochino più attenta e di valutare insieme al municipio, al comune di Roma, la possibilità di far togliere questi cartelli laddove fossero stati autorizzati nel tempo, dare altre autorizzazioni, insomma in poche parole li togli da qua, metterli dove ti pare. L'importante è che questo nostro patrimonio artistico venga tutelato. Davanti a Cinecittà ci sono tanti cartelloni brutti che non ci dovrebbero stare. Perché ci stanno? Levateli. Vedere questi cartelloni di fronte a questo monumento è qualcosa di, possiamo dire, anche un po' osceno perché comunque Roma è una città d'arte, è stupenda, quindi rovina proprio la bellezza forse anche della città, magari non solo davanti a questo monumento ma anche davanti a altri. Di fronte a una bellezza e una storia come quella di Cinecittà non dovrebbero essere affissi. Abbiamo girato l'angolo e ci troviamo in via di Torre Spaccata, questo è il muro di Cinta del perimetro di Cinecittà, questi sono i bruttissimi cartelloni, ancora più brutti di quelli che abbiamo visto in via Tuscolana, ma qui la situazione è ancora peggio perché guardate, in questo punto addirittura, oltre ai cartelloni c'è un palo della luce e questo palo della luce obbliga un disabile in carrozzina a scendere e andare in mezzo alla strada e questo succede anche alle mamme che passano con i bambini. Guardate quanto è stretta la strada e qui oltretutto sono state spese tante parole da parte del municipio ma nessuno ha mai fatto niente, soprattutto per allargare un pochino il marciapiede e cercare di rendere più vivibile e meno pericoloso questo tratto di strada. Qui abbiamo una situazione di pericolo per questa strada, soprattutto perché non si riesce a passare con le carrozzine disabile, anche voi con gli ombrelli quando piove, vero? Beh allora devo uscire di fuori io, perché se no ci incrociamo lì pure, a quel passaggio lì, allora o metti l'ombrello così o giri e quindi devi metterti sulla strada. Fino a qualche giorno fa c'è stato un grande presidio, l'abbiamo saputo tutti, l'abbiamo letto sui giornali, abbiamo visto in tv, di persone che lavorano all'interno di Cinecittà e stanno lottando ancora per il loro posto di lavoro. All'interno la proprietà sta pensando a costruire un albergo, sta pensando a costruire dei campi da tennis, un centro fitness, centri di estetica e non pensano a quanto è importante poter tutelare un patrimonio artistico così imponente, quello di Cinecittà. Noi cerchiamo di mettercela tutta e vogliamo chiedere alle istituzioni di poter fare qualcosa. E la stessa domanda siamo venuti a farla al maestro De Angelis, che sono circa un centinaio di anni che è fabbricata delle statue per il cinema, vero? Sono oltre 70 anni per il cinema e oltre 90 anni che esiste questa attività. E il maestro De Angelis ha il suo laboratorio all'interno, quindi ogni mattina passa davanti a queste bruttezze che troviamo di cartelloni tutti sparpagliati intorno al muro di Cinta di Cinecittà. Lei che ne pensa maestro? Io non dico una bruttezza, una bruttezza per dove sono posizionati, perché fare pubblicità per un commercio è importante in quanto se i soldi girano va bene per tutti. I soldi nascosti non aiutano, però ci vorrebbe un'accortezza dove posizionarli, non deturpare panorami e sia monumenti, sia qualsiasi cosa che abbia una importanza come può avere la Cinecittà. Quindi Cinecittà coperta da cartelloni pubblicitari non è che sia veramente una bellezza. Secondo lei maestro che cosa dovrebbe fare il Comune di Roma o il Municipio per questa situazione? Vabbè, che ci vorrebbe? Un'accortezza come ho detto nel trovare dei posti idonei per posizionare i manifesti, perché penso che il Municipio ci prenda anche dei soldi con la pubblicità, per cui togliergliela non è giusto, ma posizionarli in un posto che non diano fastidio, che siano solo e veramente un richiamo pubblicitario. Per il momento, e come dice Striscia la notizia, è solo per il momento è tutto, torneremo sull'argomento fino a che l'amministrazione comunale possa dare una risposta per tutelare il patrimonio artistico e soprattutto oggi qui ci sono anche dei vincoli importanti che non debbono essere trascurati per nessun motivo.